Siamo in diretta da Puglia. Bene, ci può dire lei qualcosa in più su questo caso? So che sei, pezzo di merda. I'm gonna get you, I'm gonna stick my gun up your ass! Mi sono messo a fare il criminale con una banda di poliziotti che non sa neanche lacciarsi le scarpe. Li vedete? Sono a ore dieci. Chi ore sono? Non sono ammessi i giornalisti assettati di sangue. Non importunare la signora, dobbiamo andare via, sta arrivando il magistrato, dai. Sono io il magistrato? Ma scusi. Ma lei si rende conto che mare di guai mi sono messa? Il procuratore capo dice che Tre Fideli è famosissima, come detective. Vi darò solo qualche mio piccolo suggerimento, sembra che vi faccia comodo. Posso rifiutare? No. Va bene. Il rapinatore si chiamava Turi Masotto. Dobbiamo sapere tutto di lui. Questo è morto, commissario. A me interessa vedere i vari metodi investigativi. Ad esempio c'è quello induttivo e quello deduttivo. E io quale uso? Lei tira a indovinare. Questa però non è una prova, è un indizio. Qui sorge spontaneo un grazie al cazzo. Fico! Abbiamo trovato i colpevoli. Quando si va sulla scena del crimine non va indossato un guante. Ma non l'abbiamo indossato! Va indossato prima! Cazzo, non lo sapevamo, non me l'hai detto. Tutti parlano molto spesso del fatto che siamo eroi, ma non siamo eroi. Noi siamo... Poloniziotti. Dimmi che l'hai visto il bacio. Non vedo più niente, commissar, sto svenendo. Polino, di che scherzi e prendi tempo. Scherzo, prendo tempo. Commissario, questo è il motivo per cui siamo entrati in polizia. Quale? Sparare liberamente alla gente! Chi è st'amata? La mia cara mamma. Baccialo, coglione. Ha detto coglione? No, no, non ha detto coglione. Coglione. Adesso l'ha detto.